L'incredibile storia di Vinicius Tobias, classe 2004 dello Shakhtar Tonez, ed ex Real Madrid, che si è tatuato il nome della piccola Maite, ma ha poi scoperto di non essere il padre biologico tramite il test del DNA. Andiamo a vedere più nei dettagli questa incredibile storia. Il giovane terzino brasiliano negli scorsi mesi aveva deciso di tatuarsi il nome della figlioletta ancora nel grembo della madre, Ingrid Lima, famosa influenza brasiliana. Tutto pronto per la festa se non fosse che non è lui il vero padre. La sua compagna, come ricostruito dai quotidiani brasiliani, ha concepito la piccola creatura in seguito a un rapporto extraconugale con un fattorino. I due, come raccontato dalla stessa Ingrid attraverso una storia condivisa su Instagram, avevano deciso di prendersi una pausa perché avevano avuto un periodo complicato prima di riappacificarsi. E dunque, durante questo periodo complicato, è avvenuto il fattaccio. E voi come avreste reagito?